Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e finalmente sono tornato per fare un nuovo video con voi Questo è il mio primo vlog E come primo vlog dura poco Perché volevo parlarvi di alcune cose Allora intanto i miei due canali Che sono questo, che è il secondo canale, questo qui E poi c'è il primo canale, che è questo qua, dove state vedendo il video In questo canale metterò video sulla pesca Ne farò Ne metterò una settimana in questo qua della pesca Cioè per ora, che ancora siamo nel mese di giugno Però poi appena sarà il mese di luglio e agosto che ci saranno più pesci Farò molto più video, sia a mare che nel fiume E niente Invece nel secondo canale, che è qui su qua, mi mette il link in descrizione Faremo alcuni esperimenti Allora, durante questo giorno ho scritto un po' tutti i miei esperimenti da fare Tra cui uno è appunto sulla pesca Questo qua Che faremo alcuni oggetti che metterò però in questo canale, credo Che vanno d'accordo molto con la pesca Sono utili per pescare appunto Ok ragazzi, direi di concludere qui il video Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video sul secondo canale E la prossima settimana ancora con un altro video in questo canale Grazie della visione, mettete mi piace, condividete Fate quello che volete con questo video E ci vediamo in prossimo video Bene ragazzi Grazie 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 a tutti.